Mario Bosco, non più comandante, come usavamo dire, in pensione da due giorni, un radicale cambio della propria vita, anche se ancora ci sono i postumi di questa professione che hai lasciato appena due giorni fa. Sì, in effetti i postumi ci sono, oggi ad esempio devo ritornare un attimo in ufficio, però ancora non mi sono dissociato completamente dall'attività, ho l'abitudine di guardare la città, mentre cammino osservo delle criticità, però sto andando via con un grande rimpianto, sono andato già via con un rimpianto di avere un comando ben strutturato dal punto di vista di attrezzature, di macchine, ma come organico siamo proprio nei guai. Siamo proprio nei guai, io l'ho rappresentato a tutte le autorità, a tutte le istituzioni nel nostro territorio, perché da 136 unità siamo appena 25. Io capisco che qualcuno sui social scrive si può fare di meglio, si può fare di meglio chiaramente avendo gli uomini, gli uomini che sono, che ha un altro dispiacere che ciò che spesso il cittadino, poi noi siamo al loro servizio, lamenta di servizio ovviamente, perché non è che lavoriamo solo noi male, ma anche il cittadino paga per questa condizione, perché il vigile viene sempre additato come un lavoratore non impegnato, un lavoratore che ha poca professionalità, ma non è proprio così. I miei uomini ricevono di notte pure situazioni estreme di qualunque genere, mi fanno 12 ore di fila di lavoro, non mi guardano orari, e io colgo questa occasione per ringraziarli fino all'ultimo giorno, non finirò mai di ringraziarli, perché solo quelli che ci stanno dentro possono capire il lavoro che si svolge. Tutte le problematiche della nostra città passano dalla polizia locale, assolutamente anche dall'albero che ha un ramo più lungo, da una buga per le strade, dal cane ferito, tutto passa da noi e lo smistiamo ai vari servizi dell'amministrazione comunale. Ovviamente quando c'è l'organico noi eravamo molto presenti, mi ricordo ai tempi abbiamo fatto l'attività Drag Street, droga su strada, un'attività che è stata dall'Italia meridionale, siamo stati trapa negli unici, con un successo indescrivibile. Gli organi della prefettura ancora lo ricordano, la dirigente di allora, la dottoressa Baratta. Abbiamo affrontato situazioni come l'America's Cup, Fly for Peace con le flecce tricolore, tutte le manifestazioni di misteri, e l'abbiamo fatto sempre con dignità e professionalità. Ora siamo in notevole disagio. Abbiamo avuto l'aiuto anche dei volontari, che in questo contesto ringrazio, l'Associazione dei Vigili del Fuoco di Scontinue, l'Antras che è con noi spesso, anzi quasi sempre, ci aiutano nelle nostre attività esterne, perché l'organico non ce la farebbe. Ringrazio in questo momento anche gli ausileri del traffico, che io ho preparato i decreti che ha firmato il Sindaco, perché adesso con il 12 bis sono entrati nel codice della strada, tutti pieni pieni. Adesso sono dei pubblici ufficiali, non più degli incaricati di pubblico servizio, è bene che i cittadini lo sappiano. Quindi i reati che commettono sono d'ufficio. E loro hanno i compiti, anche gli hanno estesi i compiti, anche che nelle loro aree possono sanzionare, anche dove c'è il passo carrabbile, le stisce pedonali, prossimità di incrocio, tutte le violazioni sulle norme di comportamento sulla sosta. Questo è un fatto per noi pure positivo, perché sulla sosta ci aiutano anche a risolvere alcune problematiche. Mario Bosco, la richiamo comandante, perché mi pare che non abbia staccato con la testa lei ancora in qualche modo. Non è facile, non è facile perché il ruolo che uno svolge è coinvolto pienamente nell'ambito della città, nel proprio uomini, quindi non è facile di staccarsi. Però dovrò farlo con un po' di impegno. Con un po' di impegno.